come portare il telefonino sulla bici ora che sono sempre più grandi e scomodi da mettere in tasca ecco allora un nuovo dispositivo veramente originale realizzato in austria per attaccare il nostro smartphone al manubrio della bici montare il telefono sul manubrio non è comunque un'idea originale ma questo piccolo pezzo di silicone chiamato fin è una delle migliori soluzioni finora trovate basta arrotolarlo attorno alla manubria poi attorno alla telefono il gioco è fatto e indovinate naturalmente si può usare con qualsiasi telefonino